Striscia quotidiana, periodica con Michele Iurlaro che intento a scrivere, andiamo ovviamente a disturbarlo. Michele, che cosa abbiamo oggi? Si parla di Settimana Santa, ci siamo già in clima e si parla di un'ordinanza che è vecchia di qualche anno. Eh sì, le vie del Signore sono davvero infinite, potremmo dire così, perché con questa ordinanza avevamo già avuto a che fare tre anni fa all'epoca. Il Vice Sindaco Cosimo Bungaro ordinò ai gestori dei locali di far sparire tutto l'arredo, tutti i tavolini, gli ombrelloni, tutte le installazioni mobili o fisse dal centro urbano di Francavilla Fontana nei giorni della Dolorata, la processione della Dolorata e nel venerdì santo con la processione dei misteri. Quindi fare di peggio sembrava davvero impossibile, io stesso criticai tantissimo quell'ordinanza, il problema è che ci ritroviamo di nuovo a che fare con un'ordinanza dello stesso tipo. Bungaro rivendica la paternità di questa ordinanza come se fosse una cosa bella, dicendo che il Sindaco Maurizio Bruno l'abbia ripresa pari pari. In realtà le cose non stanno così, questa è ancora più vasta, ancora più penalizzante per i gestori dei locali. Restrittiva diciamo. Sì, perché innanzitutto non ci sono gli orari, quindi si parla soltanto dei giorni, due venerdì e quindi praticamente dalla mezzanotte della sera precedente dovrebbe sparire qualsiasi tipo di tavolino o arredo urbano fino alla mezzanotte del venerdì, sia quello precedente che quello della processione dei misteri. Io dico che questa ordinanza non solo è filosoficamente sbagliata ed è in contrasto con qualsiasi norma di marketing turistico, ma è anche impossibile da attuare, è impossibile da applicare proprio perché chiede delle cose che fondamentalmente non possono essere rispettate, ovvero la disinstallazione di strutture veramente pesanti come per esempio gli ombrelloni che non si capisce che fine dovrebbero fare, dovrebbero essere probabilmente ammassati creando anche un fastidio. In secondo luogo credo che sia anche penalizzante non solo per la città, Bruno parla del suo vestito più bello, sarebbe penalizzante per la città, sarebbe penalizzante per i gestori dei locali, sarebbe penalizzante per i turisti che si ritroverebbero in una sorta di città vuota, non potrebbero gustarsi un gelato o bere un succo di frutto, perché no, anche una birra in un giorno il venerdì santo che è quello che storicamente attira proprio più turisti. Qua si tratta di fornire dei servizi ai cittadini e chiaramente anche ai forestieri, ma questa possibilità sarebbe negata. A meno che insomma non si pensi che i locali del centro di Francavilla Fontana non siano buoni in queste occasioni soltanto per essere utilizzati come bagni pubblici. Le critiche sono arrivate non solo dai gestori, anche da Sergio Tatarano, laico ovviamente storico di Francavilla Fontana e presidente della cellula radicale Luca Coscioni. Sono arrivate altre critiche, per esempio il presidente della CNA, Emanuele Sternativo, con cui mi sono sentito qualche minuto fa, ha criticato fortemente questa ordinanza dicendo appunto che i locali forniscono dei servizi e penalizzarli in un periodo così difficile per l'economia locale è davvero in contrasto con la buona amministrazione. Io voglio aggiungere un'altra cosa. Spesso i locali della Movida vengono molto criticati. In realtà credo che in una città come Francavilla, maglia nera per la disoccupazione giovanile, questi locali rappresentino una delle realtà più belle perché danno lavoro e occupazione a tanti giovani. Quindi penalizzarli in questo modo secondo me è assolutamente ridicolo. Poi a meno che qualcuno non pensi di guadagnarsi un posto in paradiso con questa ordinanza che secondo me non potrebbe neppure essere rispettata. E sono sicuro anche che i vigili urbani non faranno tante storie perché i vigili urbani di Francavilla sono brave persone.